Alberto Beneghini, che cosa è oggi un Security Operation Center e come deve essere impostato per affrontare i cyberattacchi di ultima generazione? Un Security Operation Center è innanzitutto un luogo molto sicuro ed è un luogo dove gli analisti suffragati dalla tecnologia e dai processi di IBM svolgono l'attività di analisi delle informazioni, dei log che provengono dai dispositivi di sicurezza dei nostri clienti. I nostri Security Operation Center, 10 a livello internazionale, sono collegati tra di loro attraverso una rete e si occupano della discovery e della notifica degli incidenti che i nostri clienti stanno subendo. Quindi l'obiettivo per un nostro Security Operation Center è quello di recuperare in modo sicuro e criptato le informazioni dei log dei dispositivi dei clienti, comprimerli, analizzarli, individuare gli incidenti di sicurezza e notificarlo nel minor tempo possibile al cliente per far sì che inizi il processo di gestione dell'incidente. All'interno del Security Operation Center non ci sono soltanto delle informazioni legate ai singoli clienti ma vengono correlate anche informazioni dalla rete di Security Intelligence. Quindi io ho una visione interna e una visione esterna che messa a fattore comune fa sì che l'efficacia e l'efficienza dell'Operation Center possa fare la differenza nell'inizio del processo di incident handling da parte dei nostri clienti. Sono possibili e che tipo di vantaggi possono offrire soluzioni di esternalizzazione in un'area critica come la sicurezza di dati e infrastrutture? È assolutamente possibile esternalizzare e condividere quella che è la componente di analisi delle informazioni all'esterno di un Operation Center. Questo lo si può fare con tutte le componenti di IBM che sono disponibili a livello globale. Quindi io avrò una condivisione delle informazioni sull'Operation Center esterno, porterò i miei dati verso l'Operation Center e potrò condividere quello che è il rischio con l'Operation Center e IBM. Questo fa sì che l'Operation Center si occupi della componente di analisi, di analytics, riporti le informazioni verso il cliente e si riesca poi a iniziare tutte le procedure di incident handling del cliente stesso. IBM ha una storia molto estesa da un punto di vista di Operation Center, li abbiamo istituiti a livello internazionale dalla fine degli anni 90 e questo ci consente di appoggiarci ad una rete di un'infrastruttura unica al mondo da un punto di vista di coverage e di disponibilità degli Operation Center stessi.